La nuova mensa di supporto alla scuola primaria, allocato di fronte alle scuole elementari nel prato che adesso sta tra la casa e le piattaforme dove c'è la sagra della Proloco adesso, collegato alle elementari ma di servizio anche alle medie dall'altra parte della strada. I ragazzini un po' più grandi potranno attraversare la strada e arrivare all'edificio nuovo dove troveranno collocazione proprio solo la mensa e le cucine in modo da poter fare tra l'altro la preparazione dei pasti in loco. Oggi abbiamo la ditta che cucina in CSA e poi porta i pasti alle scuole, invece questo ci consentirà di fare direttamente tutto lì.